Va al GSD Porto Torres il derby della Serie A di basket in carrozzina, 63 a 51, il finale per i ragazzi di coach di giusto. Alla fine della gara abbiamo sentito Beatrice Ion, reduce dalla disputa della qualifieround degli europei, che vedrà la nazionale Under 22 protagonista ai prossimi mondiali. L'Europa è stata un'esperienza fantastica, siamo riusciti nel nostro intento, ovvero qualificarci al mondiale. Brucia un po' il non aver vinto la medaglia perché mancava veramente poco, abbiamo perso il finale. Però l'importante è esserci riusciti e il GSD quest'anno è una squadra fortissima, siamo tutti molto coesi, molto uniti, il che aiuta tantissimo. Ora come ora siamo primi e speriamo di rimanerlo per tutto il campionato e chissà magari anche vincerlo. Come ti trovi in Sardegna Bea? Guarda io vengo da Roma, una città mega caotica, è bellissimo stare qui, tranquillo, la gente è molto gentile, molto accogliente, si mangia bene, si sta benissimo.